Benvenuti ragazzi in un nuovo video ASMR Mukbang Oggi proviamo un po' di nudolini, ero al supermercato e li ho visti, magari facciamo un assaggio e li confrontiamo E sono pronti in tre minuti, si apre, si mette l'acqua calda all'interno, si richiude e si aspetta Quale proviamo prima mi incuriosisce questo rosa Odora di Pringles Ok mi la sto buttando tutto questo rosa Ok ho fatto un casino, tre minuti Ho diventato la polverina La polverina Ok è una polverina arancione Tempo scaduto Ok ho una brodaglia, ragazzi Dunque si sono sponsate Come si dice nel mio pianetto Hanno assorbito l'acqua Vedete vedere Sono bianchi Andiamo l'assaggio Perché Questa è la cosa Grazie a tutti. 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 Nel frattempo vi di questi come qui da salsa ci va alla fine, non prima dell'acqua. La salsa qui è liquida. Buon profumo, ci sono tutte queste verdure secche. Ok, mettiamo il tap e aspettiamo. Tre minuti partiti. Allora, questi qua profumano vera proprio di gamberetti. Sicuramente c'è qualcosa che li ricorda lontanamente. Ci hanno messo anche del bepe. Si sente infatti un leggero sapore di bepe. Secondo me è una tattica per ricordare meglio i gamberetti perché sui gamberetti ci sta bene. A me personalmente piace, quindi a tempo scaduto. Ok, funziona. Ok, funziona. L'odore di questi noodles ricorda molto. L'avete presente quando comprate quelle buste di patatine aromatizzate a qualcosa? Ecco, sono sempre bianchi, ovviamente. Sono bollenti. È interessante notare da subito che non sanno di niente, raga. Non sanno veramente di niente, ma cazzo mi sono sentito che la troppo è un coglione. Questa non la taglio, ve la faccio vedere questa figura di merda. Ok. Ok, è una bella cremina oleosa. Mi ha caduto pure un goccio sul tavolo. Wow, profumo fortissimo. Ne ho mangiato praticamente metà senza condilento. Oddio che profumo forte, fortissimo. E il profumo promette veramente bene. E mi sa che queste saranno i miei preferiti. Anche un po' piccante. Anche un po' piccante. Anche un po' piccante. Anche un po' piccante. Oh! C'è il nostro canale? Sono sorpreso sinceramente, non mi aspettavo un gusto simile, gustina semplizzato, stiamo parlando della star, devo dire che questo gusto non l'avevo mai sentito prima, mi ricordano sicuramente lo zenzero, la soia. Raga questi li vedo più consistenti, andiamo a provarli. Scotta un po' la torata, sono un po' lenti. Sta mangiando anche il tavolo perché mi cadono. Queste roga veramente non sono niente. Prima avevo sbagliato ma qua veramente non si sente niente. Nemmeno il prodotto che si è creato, il condimento in polvere. Era un gusto sano di niente, raga. Sì. 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 Non ci faccio sentire? Sì, è bello. Sì, è bello. Questi proprio completamente bugiati al manzo. Il tempo è scaduto. Un po' di tempo. Il c'è un po' di calma. Poi di calma! Il c'è un po' di calma di calma. La cosa è che c'è l'unico, mazza, 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 mazza. Si è un po' di calma. Il c'è un po' di calma. Un po' di calma. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Raga, che dire, non ci perdo tempo Questi tre sanno praticamente di brodo, di acqua Cioè, il sapore è veramente scarso Adesso io ne ho mangiato i quattro e sono veramente pieno Considerate che un coso di questi è 310 grammi E ve li sconsiglio raga Manzo, verdure e gamberetti non sanno di niente Forse gamberetti ha più sapore di questi due Questo qua è il vincitore Perché quella salsina liquida ha fatto la differenza Perché è riuscita veramente a dare un sapore persistente al palato, al gusto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti